Ciao ragazzi, sono Giuseppe e benvenuti in questo nuovo video, in questo video vi ho parlato della lista Champions della nostra Juventus Allora ragazzi, allora Vi spiego la lista Champions, ruoli per ruoli, portiere, Chesney, Buffon e Pinsodio I difensori sono Alexandro, Bonucci, Danilo, De Ritt, De Ciglio, Demirani e Lugani Come i cittadini gambisti sono Betacourt, Digama 3D, Pjanic, Rabiot, Ramsey E come attaccanti sono Bernardeschi, Ronaldo, Quadrato, Dara Scossa, Di Bara e Higuain Non si dice Higuain, si dice Higuain Allora Come giocatore esclusi vi sono Emel Chan, Mangio Griciccherini, Piazza e Perin Perin e Perin Fortunio Speriamo che quando torni te le vai a Benfica, te le deve andare a Perin Vai a Benfica, fai nuova esperienza Piazza, non sappiamo quando torni Quando torni ci vediamo, forse, non lo so se ci vediamo quest'anno Figuriamoci, vediamo Chiellini sei fuori per infortunio Fuori per infortunio E sabato Ci sei mancato, Chiellini, sabato Aveva preso 3 gol in un 4 d'ora Senza di te, Chiellini, indifesi, i topi ballano, eh E meno male che la fine abbiamo vinto 4 a 3 Con il gol di, con l'autogol di Coulibaly Grazie ragazzi per l'autogol di Coulibaly Abbiamo vinto 4 a 3 con Napoli Una partita da noi Stradominata Una partita da noi Stradominata Bene Cosa ne penso della lista Champions della Juventus Penso che sia una bella lista Composta da grandi giocatori E bisogna avere in campo la Cazzimma 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 E a Cazzimma Forse ragazzi A Cazzimma Vi do la mia opinione riguardo alle esclusioni di Mangiukic e di Emre Can Allora, per Mangiukic va bene Perché quest'anno tu il campo lo vedrai col binocolo Col binocolo Il campo lo vedrai col binocolo Caro Mangiukic Quindi va bene, così Come direttore scusi Avevo preferito mettere Matuidi E mi tengo Emre Can Emre Can Un grande centrocampista Forte fisicamente E mantiene un grande centrocampo Quindi avete venuto fuori Matuidi E questa cosa mi dispiace Comunque ragazzi Vi so di giocare in campo Anche in Champions Con la Cazzimma Sempre Casomai del numero 9 La Mari numero 9 Bisogna dare a Iguain Subito Subito E meno male che aveva voluto Icardi Fuori dalle palle Vai a Parigi Vai Vai a Parigi E amare il numero 9 Andiamo a Iguain Con questo è tutto ragazzi Vi auguro una buona serata E fino alla fine Forza Juventus Ciao ragazzi Grazie Grazie